ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale quest'oggi porterò un nuovo episodio su star wars j di fallen order allora prima di iniziare come al solito vi invito a lasciare un bel like al video ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale scusate vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi allora iniziamo subito vediamo cosa succede qui oh oh comincia bene l'episodio spero per l'ultima volta chissà perché la seconda sorella ti considera tanto importante a lei piacciono i souvenir ma io non sono così sentimentale e onestamente tu non vali il mio tempo perciò facciamo alla svelta ok questa volta non hai via di scampo cavolo abbiamo preso oh 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 dai che ce la facciamo posso aspettare è la resa dei conti certo che fai sempre quel oh porca uh l'ho ferita uh l'ho ferita niente male per una nullità e per un jedi invece c'è differenza? oh oh che cavolo che cavolo ho fatto per schivarmi ma colpito lo stesso si è schivata ma come cavolo ho fatto? morirai come il ratto quale te che c'è che c'è Ma, perché non si sposta quando clicco di... Oh no, porca vacca. Questo l'ho sentito. Dai, continuiamo così, che forse ce la facciamo. Ecco il lu! Ok. No! Aiutami, ti prego! Dai, che l'abbiamo confinta praticamente. È finita! No sarebbe... Aspetta di conoscere l'isolamento, le tortughe, le mutilazioni e i tuoi amici! Non ti lascerò sboccarli! Non puoi fermare l'impero! Io posso fermare te! Grande! Sì. Abbiamo appena steso un inquisitore. Pensavo fossi morto. È bello rivederti. Ora dobbiamo andare. Sì, le grise ci aspettano. Sì, ma non siamo sicuri di averlo ucciso, però. Boh... Staremo a vedere come prosegue. Sì! 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 Non ha sorella sconfitta, beh forse sì, dai abbiamo vinto. Meditiamo, amici! Così recuperiamo anche un po' di vita Quindi riposa Albero dell'abilità Vediamo se riusciamo a sbloccare qualcosa Nulla, va bene Allora, dobbiamo andare all'amantis A quanto pare Quindi Allora, per di là Però, però, però Dobbiamo tornare Cavolo, ci vorrà una vita Ok Aspetta, aspetta, aspetta C'è qualcosa Nuovo ponce tenuto Il guardiano Va bene Mi aspettavo qualcosa di meglio Ma va bene Movi metti i sospetti Ma perché solo uno ne hai buttato giù Fate attenzione Va bene Ma che caspita Dai, dai Ciao Ciao Pensavo che mi sparasse Invece no Si è fatto uccidere E basta E basta Troppo facile Però, 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 però Dobbiamo andare di qua Scorciatoia sbloccata E la cosa mi piace Ah, ci sono un bel po' di soldati Ma Dobbiamo aspettare Ottimo Ottimo E la cosa mi piace Ah, ci sono un bel po' di soldati Ah, ci sono un bel po' di soldati Ah, ci sono un bel po' di soldati Oh, sta trovando Oh, temore Manda solo io? Ciao Ok Allora, 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 allora Ok, non serviva Va bene È chiusa Allora Allora, io devo andare Per di là Ah Posso arrivarci tramite Questo Qui Però Devo salire A quanto pare Poi se non sbaglio Dovrebbe essere Sì, quella lì Però la scossa Non faceva molto Ben sperare Comunque Siamo già arrivati Siamo già arrivati Ok, siamo all'avantis Perfetto Cordova 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 pensava che la chiave Per la cripta Fosse su Dato Hai trovato il tuo Wookie? Sì Ma le cose vanno male lì L'impero è ovunque Inquisitori? Beh, Trilla La seconda sorella Per ora è finita Ma ci sta dando ancora la caccia Ho sconfitto la nonna sorella Quando sono stata catturata dall'impero Ho resistito Ho giurato a me stessa Che sarei morta Prima di parlare Ma poi è arrivata Questa ombra oscura È stato peggio del peggiore Incubo che potessi immaginare Io ho resistito ancora Ma alla fine sono crullata E gli ho consegnato Trilla E non c'è niente Che io possa fare per rimediare Ma abbiamo Ma quanto sale mette quell'altro? Di salvare quelli che sono sull'oltre Ascolta La nonna sorella ha detto qualcosa Sul diventare un inquisitore Come Pare sia inevitabile Ma tu hai sopportato Quello che è successo a lei E non ti sei unita a loro Cal Va bene, Sir Troveremo Rolocrom di Cortova Togli il tuo laser Dal mio pranzo Questi prendono Barufa Per un pranzo Ok Carine No, stanno ben crescendo Stanno crescendo bene Stanno ben crescendo Mamma mia Ok, allora Salviamo amici miei Io direi che posso concludere qui Quest'episodio Spero che vi sia piaciuto Lo scontro contro la nonna sorella Vi invito a lasciare Un bel like al video Ed inoltre Se non siete ancora iscritti al canale Vi invito ad iscrivervi E ad attivare la campanella delle notifiche Per non perdere nessuno dei prossimi episodi Grazie ancora amici miei Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao e grazie Ciao 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 ciao